Continuano i controlli da parte dei militari dell'arma dei carabinieri e dei vigili urbani per contrastare gli sprechi idrici a buon abitacolo, dove il sindaco Elia Rinaldi ha messo in piedi nei giorni scorsi una vera e propria task force per contrastare l'uso improprio dell'acqua, in particolar modo in questo periodo di forte siccità. Le forze dell'ordine fa sapere il primo cittadino, da alcuni giorni stanno perlustrando le aree periferiche del paese, in particolare le zone di campagna, per individuare eventuali trasgressori. Nei giorni scorsi è stata pubblicata anche un'ordinanza contro gli sprechi e l'uso improprio dell'acqua, vietando l'innaffiamento di giardini, orti, lavaggio domestico di auto e motoveicoli, il riempimento anche parziale di piscine, fontane ornamentali e vasche da giardino. Ai trasgressori saranno applicate multe molto salate e nei casi di sottrazione dolosa di acqua, di derivazione abusiva, di manomissione o danni comunque prodotti alle condutture dell'ente, la penale supererà i 500 euro, oltre al rimborso delle spese eventualmente occorrenti per la riparazione del danno, le conseguenze civili e penali. Una misura, spiega Elia Rinaldi, resasi necessaria a causa della precarietà che il servizio di fornitura subisce durante il periodo estivo, causando notevoli disagi ai cittadini e ai turisti.